Buongiorno, sono Patrizia Zeglioli del Comitato Scientifico del Palinsesto Culturale dei Talenti delle Donne. Oggi è con noi Raffaella Podraider, scrittrice e nipote di Rosa Genoni. Raffaella ha collaborato alla realizzazione dello spettacolo teatrale Figlie dell'Epoca, Donne di Pace in Tempo di Guerra, di Econ Roberta Biaggiarelli. Lo spettacolo fa parte del ciclo di appuntamenti ai talenti delle donne e dell'estate sforzesca 2020. Sarà in scena il 21 luglio alle ore 21 al Castello Sforzesco. Le donne di pace raccontate nella pièce sono le oltre mille donne che si sono autoconvocate all'AIA dal 28 aprile al 1 maggio 1915. Il loro congresso internazionale avveniva in pieno conflitto e lo scopo era promuovere la pace. Rosa Genoni era l'unica rappresentante italiana, allora era una famosa esponente del femminismo e molte altre cose. Oggi il suo nome sembra dimenticato. Ne parliamo con Raffaella Podreider. Raffaella, può dirci che era Rosa Genoni e perché la sua storia è straordinaria fin dei primi passi? Certamente. Rosa Genoni è nata a Tirano in Valtellina nel 1867 in una famiglia modestissima. Il padre era calzolaio, ciabattino e lei era la prima, è stata la prima di 18 figli, 18 bambini. All'epoca si usava. 12 sono cresciuti e 6 no. E era una famiglia veramente molto modesta, non triste però. Mi ricordo che la nonna mi raccontava che nonostante la situazione economica non fosse florida, erano allegri, erano contenti. Però lei è andata a scuola fino alla terza elementare perché all'epoca che una femmina avesse fatto già tre anni di scuola bastava e lei avrebbe voluto invece continuare a studiare nelle scuole serali. Quindi il padre, quando lei aveva dieci anni, l'ha portata a Milano dalla zia Emilia. La zia Emilia aveva un laboratorio di sartoria e quindi la piccola Rosa ha cominciato proprio a fare la raccata spille, insomma la piscinina, e a guardare quello che faceva la zia e ha cominciato a sentire che chi parlava di moda, di abiti, eccetera, usava termini francesi. Per cui lei ha pensato che se voleva occuparsi di moda doveva assolutamente imparare anche il francese. La zia le aveva concesso, perché questo era il patto, di seguire le scuole, la quarta e la quinta elementare serale, e poi la domenica aveva insistito molto per seguire i corsi di francese. Un cugino, uno dei figli della zia, era politicizzato e quando Rosa ha avuto 14-15 anni ha cominciato a interessarsi della situazione politica e questo cugino la portava con sé alle riunioni e lei ha cominciato a frequentare quelli che poi sarebbero diventati i primi socialisti e a interessarsi della situazione dei lavoratori. Quando non aveva ancora 18 anni ha avuto l'opportunità, con grandissima gioia, di accompagnare un gruppo di lavoratori a Parigi perché sapevano che la ragazza aveva imparato un po' di francese e quindi immaginavano di poterla, di farsi aiutare da questa fanciulla. E lei è andata felicissima a Parigi e ha seguito questo convegno, questo congresso e quando è stato il momento di ritornare ha detto che lei non aveva nessuna intenzione di tornare a Milano e nessuno di questi operai aveva la patria potestà, quindi hanno dovuto lasciarla a Parigi con un coraggio, devo dire, un coraggio da leone, pochissimi soldi, nessun aggancio, doveva trovarsi un lavoro e quindi è stata a Parigi per tre anni, ha imparato benissimo il francese, ha subito trovato un lavoro e le si sono veramente aperti grandi orizzonti. Ecco, poi torna in Italia, si occupa di moda e di femminismo. Allora, cosa c'entra la moda col femminismo? Perché pensava che emancipasse le donne? Ma naturalmente lei si occupava di moda e contemporaneamente di politica, quindi riteneva che la moda fosse un ambito prettamente femminile nel quale la donna poteva esprimersi nella moda e nella casa e attraverso la moda poteva cominciare a manifestare i propri gusti, i propri sentimenti, le proprie tendenze. E nel 1906 ha meritato il Grand Prix della giuria per i suoi modelli ispirati ai grandi artisti del Rinascimento. Purtroppo la vetrina che lei si era così faticosamente costruita, perché Casa Art non l'appoggiava, perché riteneva che la moda di Parigi fosse assolutamente ineguagliabile, lei se ne era fatta da sola e bruciata. E nell'arco però di 40 giorni ha riproposto sei modelli, tra i quali un abito da ballo ispirato alla primavera del Botticelli e un mantello di corte ispirato al Pisanello. Di tutti gli abiti che erano stati esposti, questi due sono sopravvissuti a traslochi e guerre, eccetera, e mia mamma, Fanny Podreider, nel 1983 li ha donati alla Galleria del Costume a Palazzo Pitti. Ma Rosa riteneva anche che le donne, attraverso la moda, potessero emanciparsi, cioè lavorare, rivendicare dei diritti, avere un ruolo nella vita sociale. Nella vita sociale. Sì, e questo soprattutto l'ha espresso insegnando. Comunque, lei è stata la rappresentante nel 1908 al primo congresso nazionale a Roma, ha esposto le sue teorie sulla moda e sul femminismo e posso leggere brevemente. Il costume, come il linguaggio, segna il genio di un popolo e ora che la donna italiana possa scegliere quelle linee e quelle forme adatte al gusto moderno, ispirate ai grandi cappolavori, ai costumi regionali e al mondo della natura. Quindi i costumi regionali hanno molta importanza perché lei voleva recuperare anche le tradizioni del popolo italiano e insisteva dicendo che dopo più di 50 anni, durante i quali l'Italia era diventata un paese indipendente, era assolutamente inconcepibile che esistesse ancora una sudditanza nei confronti della moda di Parigi. E lei aveva, rispetto ai suoi contemporanei, una visione anche economica perché pensava che la moda avrebbe potuto dare alle donne la possibilità di emanciparsi con il loro lavoro, che tutte queste bravissime sarte, queste bravissime ricamatrici avrebbero potuto ottenere risultati sia economici che di soddisfazione. E quindi quando lei ha cominciato a insegnare alla scuola dell'umanitaria nel 1905, oltre ad insegnare a cucire, a tagliare, eccetera, voleva proprio che fare di queste sue allieve delle creatrici, non solo delle semplici esecutrici di modelli fatti da altri. Certo. E quindi Rosa Genoni, possiamo dire, è un po', come dire, agli albori di quello che sarebbe diventato il sistema moda italiano nel dopoguerra. Ma oltre alla moda, Rosa Genoni era una socialista ed era attiva in molti ambiti. Uno l'ha accennato che è quello della scuola dell'umanitaria. Quali sono gli altri? Ce li ricorda? Allora, lei è stata una socialista della prima ora, aveva conosciuto Costa, era diventata molto amica di Anna Kulishoff e di Turati, di Treves. Nel 1914 avevano fondato, con le donne socialiste, lei e il suo compagno, mio nonno Alfredo Podreider, avevano fondato la Pro-umanità, che aveva lo scopo di aiutare coloro che fuggivano, gli italiani che fuggivano dal Belgio invaso dai tedeschi e arrivavano a Milano in condizioni terribili. E lei è riuscita a organizzare alla stazione centrale, nei capannoni della Bonomelli, una quantità di aiuti per questa gente. Poi, una volta scoppiata la guerra, mandavano il pane ai prigionieri. Che cosa voleva dire? che dovevano raccogliere denaro e lei ha fatto di ogni, ha fatto spettacolo organizzato per raccogliere denaro, per poter mandare il pane ai prigionieri, avvolto in determinati modi, perché se no il pane ammarciva, eccetera. E la cosa terribile è stata che a un certo punto l'avevano accusata, la polizia, la questura, l'aveva chiamata dicendo che metteva dentro delle cartoline pacifiste. E lei si è inviperita, perché non era vero. Bene. Allora, abbiamo accennato a Rosa che è una pacifista e un'internazionalista. infatti è una delle donne, l'unica italiana, che si reca al congresso dell'AIA e si è del tavolo delle relatrici. Infatti è una donna molto conosciuta, rispetto di quanto accade ora, e farà anche parte della delegazione che incontrerà i ministri europei per scongiurare appunto la guerra che è in atto. Sì. È interessante pensare che c'erano 1360 donne, di cui tre erano arrivate dall'Australia, decine dall'America e dall'Italia una sola, che è quasi impensabile, insomma, una situazione assurda. Ma lei aveva la possibilità economica di viaggiare. Un marito che le consentiva di farlo e conosceva molto bene il francese e un po' anche l'inglese, perché era stata a Londra. Quindi ha partecipato ai congressi, non ha fatto un vero e proprio discorso, ma è intervenuta lungamente due volte, una in modo speciale per il favore di Trento e Trieste, dei popoli oppressi, della scelta dei popoli a quale governo riferirsi. Ed è andata, con Aletta Jacobs, con le più importanti persone, con la Crystal Macmillan, eccetera, sono andate prima a parlare col primo ministro olandese e poi sono andate a Londra da Mr. Gray, che era il ministro degli esteri inglese. Naturalmente il loro apporto era stato molto apprezzato, ma ogni volta le c'è, ma ormai, ormai non è possibile. Quindi purtroppo non hanno. Le donne del congresso sono andate anche a Roma e purtroppo non sono state ricevute da Sonnino perché ormai ritenevano che queste donne avessero affrontato un'utopia. Invece è stata poi fondata la WILF, che è la Women International League for Peace and Freedom, e lei si è proposta di essere la rappresentante della WILF per il nord Italia e la sua casa in via Cramer 6 è stata la sede e cercava naturalmente di parlare di questa associazione con tutte le donne socialiste. e ha avuto un'infinita serie di, come posso dire, la questura andava, le portava via i libri contabili, le portava via gli elenchi e ogni volta che lei cercava di fare delle manifestazioni con le donne socialiste veniva bloccata e c'è un plico alto così a questura di Roma e di Milano è stata ritenuta per anni una soffersiva. Certo, senta, e diciamo questa battaglia internazionalista non ha avuto seguito, ovviamente. Ma durante il fascismo cosa ha fatto Rosa Genoni? Beh, allora nel 22 per esempio aveva organizzato un congresso a Varese per le giovani donne della WILF, aveva già prenotato tutto, aveva una sala eccetera e sono arrivati i fascisti e hanno spaccato tutto quanto e allora lei ha avuto molta paura perché non poteva pensare che una cinquantina di giovani donne potessero essere distrattate dai fascisti allora hanno spostato a Zurigo con Bignami e hanno fatto lì e pensare che aveva degli ospiti che sarebbero andati a Varese e poi sono andati a Lugano, Erbanesse, Salvemini e insomma voglio dire dei nomi importanti. Dei nomi importanti. Quindi durante il fascismo Rosa ha lasciato anche le sue cariche per esempio all'umanitaria per non firmare allora la prima volta che le hanno chiesto di firmare per la sua fedeltà al fascismo lei è riuscita con un'abilità incredibile a dire che lei firmava per la cultura, per le sue allieve, per l'umanitaria, per il mondo tutto tranne che l'anno dopo le hanno impedito di parlare le hanno dato in mano un pezzetto di carta dicendo lei deve leggere questo e lei quel pezzetto di carta l'ha stracciata e ha detto signori con questo io ho terminato dopo 27 anni o 30 anni di lavoro se n'è andata via da Milano molto molto amareggiata naturalmente era molto amareggiata perché lei aveva conosciuto Mussolini quando Mussolini era un socialista e aveva raccolto migliaia di firme contro l'ingresso dell'Italia in guerra e Mussolini le aveva promesso che avrebbe stampato su Lavanti dove lei peraltro aveva scritto molte volte e invece poi Mussolini ha lasciato Lavanti e è andato al popolo d'Italia eccetera e a proposito di giornali Rosa ha scritto molto anche sulla difesa delle lavoratrici il giornale di Anna Kulishov comunque nell'ultima parte della sua vita la soddisfazione di Rosa è stata vedere la caduta del regime la liberazione la conquista del suffragio femminile perché le donne come Rosa Genoni che incredibilmente hanno mostrato capacità intelligenza, solidarietà si sono impegnate nella vita politica, sociale dando un contributo notevole alla crescita del nostro paese beh, non avevano il diritto di voto no, lei è riuscita prima di morire è mancata nel 54 quindi era molto molto anziana ma è riuscita a votare per la prima volta ringraziamo Raffaella Podraider nipote di Rosa Genoni e scrittrice che ci ha parlato di Rosa Genoni e della pièce teatrale Donna dell'epoca vi diamo appuntamento il 21 luglio alle ore 21 presso il Castello Sforzesco dove Roberta Biagiarelli reciterà la pièce e ci racconterà di nuovo questa storia incredibile di Rosa Genoni buongiorno a tutti